L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria presenta la nuova offerta formativa. Ai tradizionali corsi di studio, sempre attuali, si aggiungono diverse novità, passo coi tempi. Alcuni percorsi sono unici in Calabria e nell'area dello stretto. 22 corsi di studio ricchi di indirizzi che abbracciano agraria, architettura, economia, giurisprudenza, ingegneria e scienze umane. Cinque dottorati di ricerca e vari percorsi post lauream. Laboratori all'avanguardia, ricche biblioteche, eccellenze della ricerca, numerosi accordi internazionali e opportunità di studio all'estero sono solo alcuni degli aspetti di sicuro valore e affidabilità. Per tutti gli studenti, tanti servizi gratuiti. Medico-sanitari, di trasporto, linguistici, sportivi, ricreativi e altri ancora. In un ambiente sano e accogliente. Un ventaglio di servizi e un tablet di benvenuto alle matricole, per avere tutto a portata di un clic. Il contributo iniziale di iscrizione è pure dimezzato. Scegli di studiare dove vivi, scegli la Mediterranea, l'università vicina a te.